Suo padre quel male di p***a, quanti c***o di cosi stanno? Va velocissimo quel muro lancione del c***o Che lo sfondo Juxy che ha creato sta mappa Eh sì però madonna mamma Eh sì si è tirato l'allarme tutti qua Ello ragazzi io sono Callari e oggi andremo a fare una Deadrun In cosa consiste questa Deadrun? Dobbiamo trovare 8 file E' o ridarli a Juxy e lasciarli all'Epic Games Oppure prenderli noi e poterli cliccare online Per vedere cosa ci sarà di nuovo nella prossima season Andiamo subito a avviare la partita Ragazzi prima che il video inizi vi consiglio di passare dal finale di MS Club Appena iniziato a fare i video mostrate tutto il vostro supporto Vi lascio il link in descrizione Detto questo possiamo iniziare con la Deadrun Oh siamo alla sedia dell'Epic Games Proviamo a bullizzare qualcuno perché non fanno aggiornamenti Ci credo hanno sti computer dei c***o Non c'è nessuno Non c'è nessuno, hanno sti computer di c***o che non fanno aggiornamenti Ma mi metto a lavorare io questo Tu sei un dipendente dell'Epic Perché non fai uscire gli aggiornamenti? Sono dipendente dell'Epic Perché non fai uscire gli aggiornamenti? Dimmelo, dimmelo, perché non fai uscire gli aggiornamenti? Girata, io non guardo il comitore del muro tutto in Italia Ah, ora si spiega tutto, maledetto boxing Quindi sono appena accorto che abbiamo uno di vita Che schifo Ma accettiamo il lavoro? Shooting Ok 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 si è aperto Vogliamo evitare Jonesy Adesso cosa dobbiamo fare? Devo trovare i file di gioco Oh, veramente avevo trovato dei computer Devo trovare i file di gioco Dove potrebbero stare i file di gioco? Si, nice E avviamo al primo minigame Ok, mi ha portato al primo minigame Ok, abbiamo un geppa Che schifo C'era un muro invisibile C'era un muro mortale Cazzo, mi ha fatto bloccare Boxing tu non ci servi Tu sei inutile, ricordo Ah no, ma sto benissimo Ho fatto davvero bene Ma è davvero facile Question mark No Inizia a diventare un po' più complicato Un Geometry Dash In 3D sempre Easy ragazzi Ah, guarda che scarsa un boxing Ah, che schifo Mi trovavo ancora indietro Avrei presentato i file Avrei presentato i primi file Ragazzi è facilissimo Questo è troppo facile per noi Dov'è il boxing? Vabbè, io torno indietro Ragazzi, boxing è morto Dov'è finito? Vabbè ragazzi no Vabbè ragazzi no Vabbè ragazzi Non ho sempre fatto cacare Ragazzi, come l'altra volta Un insulto a caso nei commenti di Hyperboxing Siete fantasiosi, mi raccomando Che c***o io non gli faccio più i video Ciao Nice No, no, ho perso all'ultimo All'ultimo c***o variato Che schifo Vabbè ragazzi Io spruro un po' qua Allora il prossimo livello sarà con i combat Facile credo Impulso credo Sarà un po' più difficile No, le ghiaccianti io le odio Questo sarà impossibile Questa sarà una cretinata Mi piacciono un sacco queste Pad velocizzanti Le trappole Ecco Questo sarà il più difficile C***o C'è un b**** che ci spia Vieni Ficchie b**** Ci sta la sto b**** che ci spiava Leo, vieni a vedere No, 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 non Questo Questo qua Vedi qualche b**** Ci spiava C***o Mi si è scaricato il paracaduto E non ci credo Vabbè nel frattempo il boxing continua a fallire Complimenti Posso aprirlo? Possiamo aprirlo Questa ci darà? Don, 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 don Wow Dei soldi 500 pure Grazie signor Lama Anche questo lo possiamo aprire Easy Ragazzi come l'ho detto Sei un grande signor Lama Ti voglio bene Ti darò un bacino Vieni qua Grazie signor Lama Per i tuoi tuoi mille dollari C***o C***o Grande boxing Complimenti Quanto tempo ci hai messo? 5 minuti Vabbè 5 minuti manco tanto Prossimo tutti qui ragazzi Ok abbiamo il prossimo ci saranno i combat Skip level Oh questo serve a me Per il Nintendo Switch Ok Leo è già morto mi fa paura sta roba Non ho capito bene com'è Ok poi si muore Vabbè Eh Ma anche devo andare sulla conveyor C'è Ah basta Ah sulla linea qua Shoot Che cosa dovrei sparare? Ah sparare l'uno F*** ci vuole fra Boxing è prima ragazzi Potrebbe essere che veramente Ahahah Come l'ho detto Oh la tira sempre Lei la tira sempre Questo non lo devi più parlare Che la scassone Parla dei suoi oggetti elettronici di b**** E muoiono Parla di me e c***o Allora ragazzi C'è un muro invisibile qua Ehi ti spacchi? Grazie Una scatola Abbiamo avuto il boxing Ehi Nuo file ottenuto Easy 75 C'è il tasto per il Nintendo Switch Player Troppo morto Troppo morto Ho usato Che schifo ragazzi Continua a cittare boxing E' rimasto pure goal combat Che cancrone Arriviamo nel terzo livello Che cos'è? Ah ok Ok l'impulso Questo sarà il livello Mi ha cacciato fuori ragazzi Mi ha cacciato fuori Non ci posso prendere Mi ha buttato fuori Dove? Usa l'altro Ok Ok Ah il primo no E' semplicemente max range E' vero Basta saltare Ok saltiamo WTF Ti prende per il c***o La mia impulso Ci ha messo 30 minuti per scattare Vabbè aspetterò che loro finiscano Vai boxing Tutto tuo Finisci tu e poi vado io Per ultimo Mi ha ucciso boxing Mi ha ucciso Perché ci avete tutti quanti con me? Ci devi mettere nell'angolo Ho fatto qualcosa di s*****o EASY 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 boys Non mi ha saltato? Che vita Oh Grazie fino ad adesso Non siamo mai morti in questa mappa Siamo troppo fuori Ok Ok Questo Vuole cittare un'altra volta No Saltiamo Easy Guarda il titolo se c'eri tu Ok No c'è il muro No c'è il muro Ma dai ma chi è il pazzo che ha creato questa mappa E' un sadico Boxing muori Grazie No Il karma Questo è il karma ragazzi Aspettiamo il muro Boxing ha preso il muro in pancia Easy Easy anche quest'altro Ragazzi zero morti fino ad adesso Tutto perfetto L'ho fatto il livello Ma non è vero Ma stai zitto Non sono mai morto è vero ragazzi Come si Vai vai Ho capito Bisogna andare più vicino Troppo vicino Ok A metà strada Mamma mia Questa è una guerra tra me e te Vincerò io Easy Easy boys Posso prendere il primo posto ragazzi Easy Ce l'ho fatta anche questa volta ragazzi Ragazzi Tutto il **** in bocca Vieni qua vieni qua vieni qua Vabbè ragazzi io aspetto No 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 Si Ehi Mmm Ho scoperto il potere Mi vendicherò Io posso Ma no lì No No ho sbagliato Non è morto Tua madre quella bocchino No muori Maledetto Boxing No E beh è uscito Fa niente aspettiamolo io Io mi metto qua e non passa più Mi ha bloccato Boxing Ragazzi Guardate un poco Con quanta audacia eh Si mette pure a ballare Maledetto Boxing Si si Nonchalance Ma che esco di qui ti prendo Ti prendo una piccola In una maniera incredibile Boxing 2 Oh grande Best emote Ok sei perdonato Hai fatto la migliore emote del gioco Oh mi fai uscire di qui adesso Ce l'ha fatta Nickraft ragazzi Ci ha messo 10 minuti Oh E poi vi lamentate di me Si scusa Boxing Sei perdonato Oh La No sono morto Non fosse stato per colpa tua Io l'avrei già finita Stai zitto Ma Questa volta siamo nel Ognuno Ognuno aspetta Ognuno aspetta a turno Ok Primo turno Boxing ha fatto schifo Non mi ha dato il ghiaccio Per colpa di Boxing Ti ho colpato Ti odio All'ultimo Non mi ha sempre fatto all'ultimo Nice E sto c*****o di muro Ragazzi io Giuxy Giuxy Tu che hai creato questa mappa Se stai vedendo questo video Impiccati Veramente con tutto il cuore Attaccati una corda Bella cicciona Anche così Che non deve farti male Perché Non è giusto Dai ma come fai È facilissimo Non dovete andare È facilissimo È facilissimo Parla quello che ha passato 10 minuti A saltare con una maledetta impulso Stai zitto Stai zitto Stai zitto Stai zitto Stai zitto Oh 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 Ficcino così Pochissimo Ragazzi Lo so perché non ci riesco Perché non avete ancora messo like Eh Dai Ho sbattuto parte Ho sbattuto la testa sul soffitto E sono morto Credevo nella realtà che ci hai sbattuto la testa Invece no Dai La piccola sfida soprattutto Eppure tante volte Vabbè almeno aspettando me si fa Oh 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 C'è ancora Non morire all'ultima come ho fatto io Boxing stai zitto È sempre colpa tua Sei un incubo No Tu riesci a fare sta cagata Almeno quale di prima un po' di skill ci voleva Ma che c***o dice È molto più difficile questo Scusa No non è vero Oh Tu easy man Tu easy E chi è il primo a uscire di Hecraft Che attivista No sono l'ultimo a uscire Non mi fai Vai Level 5 ragazzi Questo qua sono sicuro ci sono queste cose qua Sono facilissime Questa faccia con zero death ragazzi Non che sia morto nelle partite di prima Perché ho fatto tutte quante al primo tentativo C'è voi No c'è qualcosa lontanissimo Ok Ok Ragazzi è la musica Dove esserci gas 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 sottofondo Per farci niggere Ok Questo livello È una deltran C'è un parkour Nicraft è appena morto Scarsissimo Ragazzi Nicraft riesce pure a morire Che c***o che fai Ma hai fatto il maxi jump da qui? Ma io non posso parlare Io parlo E E sbatto con la testa sul soffitto Il soffitto fa schifo ragazzi La cosa peggiore del mondo Cringe Ragazzi Sempre meglio il pavimento Sempre meglio il pavimento Ok vieni qua Sensei Insegnami Insegnami Il tuo La tua arte Ecco La rincorsa più che pure Si Qua proprio All'ultimo Salti E ti ripetuto Salti E ti ripetuto E muore Ragazzi vedete come l'allievo supera il maestro E guarda verso il basso L'allievo non supera una m***a L'allievo non supera una m***a Se guardi verso il basso riesci a capire meglio quando sei arrivato all'ultimo Nooo Io mi trovo meglio così Lì devi saltare Ok ascoltiamo Ascoltiamo i consigli di boxing Ragazzi boxing Nemmeno i consigli ci abbia Bopsing Stai zitto Che ti prendo a piccolate Appena ti vero all'allievo giuro che ti prendo a piccolate Appena ti vero all'allievo giuro che ti prendo a piccolate Guarda come ne balla Guarda come ne balla Guarda come ne ballava il maiale Faccio vedere tutto ad un tiro Tutto ad un tiro lo faccio Ok ragazzi che video cosa mancava? Dovevamo scannerizzarci qua Adesso chassà il c***o Che il pesce secco è qui presente Ci farà vincere A occhi chiusi vedete qua Boom Primo livello Easy Secondo livello Guarda i suoi passi senza il suo Qua Ma pure vivendo muoio Pure vivendo muoio Ma pure vivendo muoio Che vuoi? Stai silenzio Guarda dove sto io Non ti ho morto una volta Wow ce l'ho fatta ragazzi Let's go boxing Smettila di vantarti Che ti sfondo Guarda che Guarda che il prossimo checkpoint è la Oh Fucking Damn it Oh ce l'ho fatta Oh ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce la farò Ce la farò Ce la farò Ah no aspetta quello ero Quello è il primo Ok Ok ragazzi No 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 Tu padre quel male di Quante c***o di cose stanno Va velocissimo quel muro L'angione del c***o Mi fate a registrare in pace Eh vabbè ragazzi E' andata così Questo video lo chiamerò Mia madre mi sgrida Mentre faccio una death run Easy clickbait Easy clickbait Easy clickbait Oh let's go Let's go Ce l'ho fatta Non correre Non correre Non correre Non correre Che si fai quando C'è il checkpoint Dopo 2 Eh sfi Qual'era il livello 18 Non mi ricordo Eccolo E' così verde E' un ciccoso Let's go Let's f***ing go Ormai Sono una c***o Lasciate like Nel ritardo Passiamo su queste griglie Psss Psss Devo fare veloce Se no mi cuocio Psss 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 Madonna E vabbè Psss Pesce Pesce alla griglia Pesce alla griglia si Psss 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 Sentite come sono fatti bene questi effetti sonori per l'altro Psss Ottimo Ecco perché a me il flow gang Perché almeno il... Il... Il parimento non mi fa capire Ok ragazzi 2 2 2 Ok primo anello Se cadi troppo giù Prendi il checkpoint di vino Eh Lo so ho paura Terzo anello ragazzi Let's go Uuuuuh Adesso passiamo su queste bobine Vabbè Il cui difenda Fala con una specie di bobine Non ho fatto nemmeno il tempo a dire Adesso passiamo su queste bobine Non basta neanche che consigli vuoi dare Ok fermo Salta sul primo Quelli che sono collegati da un filo rosso Non saltare Che ci cammini sopra filo rosso Non sono squallegati tra di te Ah ok Davvero Si Allora non riesce a stare manco sul primo Quindi ecco Let's gooo Questa è la chiesa di boxing Quindi qua ti viene a vedere il nato che fa Ah Osserviamo l'idiota che fa la tetran E' vero? Oh oh Vedete come è scemo questa scimmia Non riesce nemmeno a saltare sul primo anello Disgustoso E questo è che stai pensando E' vero? B**** E' stato non riesce a stare manco sul primo di quei così lì Che tipo la parte più facile è del livello Eh la parte più facile è del livello E' vero Jason Stai zitto Jason E' che c***o 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 Un nome da bianco privilegiato a caso Dai Dai Oh Adesso cammina fino al quarto Ok Li salti Ok E cammini fino al quattro Boom Diciamo che non avrei mai riuscito a camminare sulle bobine Muro rosso scompare Tu inizi a camminare battendo dall'esterno Stai zitto Non mi servono i tuoi consigli Uff Stavo a far morire Oh sono il primo a uscire? Let's go Ho vinto io Ah state qua Ok ragazzi Morite per me Date la vostra vita per farmi finire il livello Wow Ma Aveva ragione Io pensavo Va bene un poco però Ok Sono completamente sfalzata le input Ragazzi puoi mi spiegate perchè questa trappola a me non si trigger Perchè di non morire aspettaci al massimo Ok Aspetta 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 A me non scattano Guarda qual è arrivato E' finta? E' finta? E' finta raga E' finta Dissero che era finta E' finta E' finta E' finta E' finta E' finta E' finta Uff Ragazzi triggerate Diciamo che non saremmi riusciti a triggerare una trappola Li ho smentiti Uff Guardalo come aspetta E' finta E' finta E' finta Ci provo ragazzi Ci provo Oh Let's go Fatta con zero morti ragazzi Tutta d'unfiato Tutta per bene alla faccia tua boxing, alla faccia tua Quante volte sei morto tu, 150 Cringe Ok ragazzi, mappa col rampino Direi che non ci vuole assolutamente una m***a questa qua E' assolutamente una c***a Dissi, il più c***o del pillaggio Ok Mettiamosi i fili Ok, question mark Oh si, ce l'ho fatta Tombino Tombino Muro a caso A casissimo Tutto a caso Ne ho preso una informazione Stai zitto Basta fare la t-post Come se fossi migliore di me Oh Abbiamo tutto 8 file Vabbè aspettiamo Perché leone ce l'aveva ancora fatta Ok, dovevo aver aspettato i due nabboni Dobbiamo decidere Cosa faremo ragazzi Non cliccate nulla Lasciamo i file A Jonesy Oppure li ricchiamo online Pensiamo bene ragazzi Pensiamo bene Liccare i video Liccare i file Non so Potremmo affidarsi alla fortuna Non li ricchiamo Non li ricchiamo Spero potremmo farci la fortuna I soldi Possiamo vendere Alla Epic Alla Epic Tanto sfaticati come sono Pagherebbero Non li ricchiamo anche loro stessi fa Ma io direi di tenerseli Infatti Possiamo solo che guadagnare Tenendoci Non li guardiamo Ma ce li teniamo E li vendiamo a migliore offere Quindi Pillola blu O pillola rossa Pillola blu Sì Sì Let's go Ok Perché Perché ha Boxing da l'altra parte Perché ha Boxing da l'altra parte Ah Sei ritornato a casa E' un troll E' un troll secondo me Sì Doi l'aspettatore I file si sono completati Apri il documento E troll face Apri sul tuo screen E' facile E' rob 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 E' vabbè Bene ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se foste da costituzione Da quando lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Se siete nuovi Lasciate un commento Dicentemi cosa Ne pensate del video Vi ricordo che faccio le live Dalle 6 alle 8 del pomeriggio Vi lascio in descrizione Il canale Telegram Il gruppo di squad Per parlare con noi E Instagram Per contattarmi In privato Detto questo Passate a un prossimo video Bye bye Ciao